Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, ha deliberato la dichiarazione dello Stato di Emergenza per la durata di sei mesi in relazione alla situazione grave di deficit idrico in atto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, della provincia di Crotone e dei comuni di Calopezzati, Caloveto, Cariatico, Rigiano Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Acri, Bisignano, Luzzi, Rose, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Vaccarizzo Albanese, Bocchigliero, Campana e Terravecchia, in provincia di Cosenza. E quanto si legge nel comunicato finale nel CDM, lo stanziamento di 6,9 milioni di euro a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali deliberato dal Consiglio dei Ministri per contrastare l'emergenza siccità in diversi territori della Calabria, dimostra ancora una volta l'attenzione del governo Meloni per i bisogni della regione. E quanto afferma il sottosegretario all'interno Vandaferro, Il finanziamento stanziato su proposta del Ministro per la Protezione Civile in seguito alla richiesta avanzata dalla regione Calabria serve a far fronte alle esigenze più immediate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di sei mesi, per la situazione di grave deficit idrico in atto. L'impegno per contrastare l'emergenza siccità in diversi territori della Calabria dimostra ancora una volta l'attenzione del governo Meloni per i bisogni della regione.